Con il titolo Oasi delle api, il Soroptimist International celebra il suo centenario e anche il Club di Piacenza aderisce alle celebrazioni con un video che spiega l'importanza delle api nell'ecosistema agricolo e ambientale. Perché le api? Perché le api sono una specie in via di estinzione e questo per una serie di motivazioni. Innanzitutto per cambiamenti climatici, quindi per una politica di tipo agricolo che tiene poco conto della sopravvivenza di queste specie per una diffusione di concimi estremamente nocivi e tossici per questi insetti. Il contributo di Soroptimist Piacenza, oltre a dare rilievo alla giornata mondiale delle api che sarà il 20 maggio, è quello di mettere in evidenza una tecnica altamente innovativa e unica a livello mondiale messa a punto dall'Università Cattolica di Piacenza in cui le api sono state individuate come sensore dell'inquinamento ambientale. Non tutti sanno che le api hanno un ruolo molto importante perché sono delle formidabili sentinelle di inquinanti ambientali. Noi, in Università Cattolica, studiamo la contaminazione da particolato atmosferico sulle api. E quindi, con i nostri studi, abbiamo confermato che l'apio non ha solo molto da dare, ma anche molto da dire. Nel Piacentino di Alveari sono poco più di 16.500, curati da 471 apicoltori. Di questi apicoltori, circa il 20% sono donne e che per il 50% di queste sono dotate di partita IVA, quindi imprese apistiche commerciali che quindi producono il miele non per autoconsumo ma per la vendita.